Il momento sbagliato per una crisi di governo. Luca Zaia si trova a commentarlo mentre con Roma è in stretto contatto la vigilia di un nuovo DPCM che dovrebbe mantenere il Veneto in zona arancione ma dovrà indicare drastiche misure contenitive all'inizio dell'ormai dichiarata terza ondata della pandemia. L'idea delle regioni è quella comunque che ci sia modo anche di fare dei taglianti strada facendo perché non è che possiamo pensare che una regione finisca in zona arancione e ci resti ad libitum in modo tale da controllare i dati ma questo è innegabile perché è giusto valutare per bene i dati epidemiologici. Io ci aggiungerei che sarebbe anche ora in questo paese dopo 12 mesi di cercare anche di uniformare i dati. La crisi di governo non facilita certo il lavoro nell'emergenza pandemica tuttavia a giudizio di Zaia la trasfera di confronto in videoconferenza alla conferenza appunto Stato-Regioni non ne ha risentito nell'immediato. Per quanto riguarda i taglianti ne ho fatto io accenno con voi per un semplice motivo che se fosse rimasto soprattutto il termine del 5 marzo voi capite che tu non è che puoi chiudere una porta e buttare via le chiavi fino al 15 marzo perché accade di tutto nel bene e nel male. Quindi penso che sia doveroso avere allineamento dei dati e che siano uniformi cose che ancora in Italia non sta accadendo perché l'abbiamo visto con l'incidenza noi non possiamo paragonare l'incidenza tra regioni quando sappiamo che l'incidenza deriva dal numero di tamponi. Dall'altro la necessità di capire che quando una zona viene attribuita a una regione questa zona deve avere anche un minimo di approfondimento nel tempo per evitare che una regione ci resti mesi in una zona. Il Veneto conferma il suo R con T a 0.96 in potenziale zona gialla sapendo che dalla zona arancione pur riuscendo a mantenere questi parametri e i ricoveri in calo come negli ultimi 14 giorni non ci si potrà uscire prima di almeno altre due o tre settimane. Dai governatori può quindi arrivare qualche richiesta che faccia da tramite con il territorio ascoltando sia i sanitari che imprenditori e commercianti. Abbiamo chiesto più voci la possibilità di rivedere ad esempio il tema dell'asporto per i bar questo sì ve lo confermo. Sapete che è negato l'asporto dopo le ore 18. Consideriamo che i bar nel rispetto delle regole di non creare assembramenti, di non fare in modo che l'asporto diventi vendolo spritz in piazza e quindi diventa un finto asporto possano e debbano poter anche loro fino alle 22 poter praticare l'asporto come fanno i ristoranti.